Bene, andiamo avanti con il nostro questionario. Vediamo qua, per esempio, che c'è una domanda ancora sul concetto di soluzioni, specie, sostanze. Ci sono diverse domande. Cosa hanno in comune tutte le soluzioni acquose basiche? Ok, vediamo, questa volta si parla di soluzioni, quindi acquose, è specificato che sono acquose. Possiamo rivedere quello che succedeva con gli acidi. Per quanto riguardava le soluzioni acide, sono delle soluzioni che contengono delle sostanze acide, cioè delle sostanze che poi, in qualche modo, arricchiscono la soluzione di specie acide. In particolare, una soluzione acquosa, la specie acide, è lo ione idronio, lo ione H3O+, che qui è stato schematizzato con H+, semplicemente. Sappiamo che sono ioni idratati in acqua. Quindi possiamo semplicemente partire da quello che valeva per gli acidi e riprenderlo anche per le basi. Quindi hanno sapore aspro? Chiaramente no. Questa è una caratteristica delle soluzioni acide. Quelle basiche hanno sapore amaro, più o meno. Se uno ha preso il bicarbonato, sa, oppure se ha, per sbaglio, ingerito l'acqua saponata, sa che è amara. Quello è il sapore delle sostanze basiche. Hanno pH minore di 7? No. In questo caso hanno pH maggiore di 7, le soluzioni basiche, non le sostanze. Riescono con l'oione carbonato? No. Riescono con metalli, vili? No. L'oione carbonato, se è presente in alta concentrazione in una soluzione acosa, rende quella soluzione basica. Quindi l'oione carbonato, cioè una soluzione basica, potrebbe reagire per esempio con dei sali d'ammonio. Quindi una reazione caratteristica delle soluzioni basiche è la capacità, se le basi sono abbastanza forti e abbastanza concentrati, di reagire con sali di ammonio e sviluppare ammoniaca. Quindi questo le rende riconoscibili come soluzioni basiche. Oppure chiaramente potrebbero dare reazione con sostanze acide messe nelle soluzioni basiche. Questo è ovvio. Quindi con i metalli no, hanno concentrazione di ioni idrogeno maggiore di quelli di ioni idrossido. Il contrario, hanno concentrazione di ioni idrossido maggiore, se parliamo di soluzioni acquose, maggiore della concentrazione di ioni idrogeno, colorano in blu il tornasole e non il rosso. Questo è il indicatore. Conducono la corrente elettrica? Sì, quindi questo va bene anche perché le soluzioni basiche, anche quelle, contengono una concentrazione elevata di ioni OH-, ioni idrossido. Quindi ci sarà anche una concentrazione di ioni positivi del metallo o di qualche altro catione, chiaramente diverso dall'ione H+, che accompagna gli ioni OH-, quindi queste cariche positive e negative trasporteranno la corrente elettrica. Che cosa hanno in comune? Quindi l'abbiamo visto. Quali specie o sostanze possono cedere ai protoni? Quali possono legarli? Qui diciamo che i protoni, già avevamo detto, sono ceduti dalle specie più che dalle sostanze. Le sostanze liberano o mettono in soluzione, se le mettiamo in soluzione, delle specie di cui sono costituite, delle quali specie costituenti liberano i protoni. Comunque, sono le sostanze acide, cioè le sostanze che messe in acqua, per esempio, liberano, rendono acide le soluzioni accose, e sono le specie acide, quelle per esempio come l'acido acetico, che hanno dei protoni che sono facilmente cedibili a qualcos'altro, a qualche altra specie basica. Quindi quali possono legarli? Le specie basiche. Ok, quindi possiamo qui mettere alcuni esempi, per esempio. Scrivi la formula del bicarbonato di sodio. Ecco, la formula del bicarbonato di sodio, questa la conosciamo bene, è NaHCO3. E questa è la sostanza di partenza di tutti i nostri esperimenti. Mettiamoci anche che è una sostanza solida, ecco, così stiamo parlando della sostanza. Ho utilizzato la regola del contro, più virgola, per fare il pedice 3, cioè per dire che ci sono tre atomi di ossigeno nell'ione bicarbonato. Questa sostanza, come sappiamo, è formata da due ioni, che sono l'ione sodio, le due specie, quindi contro il punto per fare l'apice, metto il più, poi lo ripremo per ritornare alla normalità, e l'altra specie è l'ione, appunto, bicarbonato HCO3-. Ok, quindi quali sono le prove da te raccolte? Che il bicarbonato di sodio e la sostanza da essere derivata dal riscaldamento era una sostanza diversa, per cui non possiamo chiamarla bicarbonato riscaldato. Il bicarbonato riscaldato, se fosse solo riscaldato, una volta riscaldato, ridiventa bicarbonato freddo, e quindi non cambia nulla nelle sue proprietà, nel suo comportamento. Invece il nostro bicarbonato riscaldato, dopo riscaldato, faceva delle cose che il bicarbonato non fa. E quali sono queste cose? Innanzitutto abbiamo visto con il colore del vino, che quindi il bicarbonato riscaldato colorava in verde, quindi non lo chiamiamo il prodotto, chiamiamolo per essere semplicemente prodotto del riscaldamento, il prodotto colora in verde, mentre il bicarbonato lo colora in un colore violaceo o grigio, con il prodotto del riscaldamento si otteneva una colorazione verde del vino e anche del cavolo rosso, se uno avesse provato un giallo-verde addirittura. Poi l'altra cosa che fa, per cui è una sostanza diversa, è che messo in acqua, con l'acqua, forma una sospensione e un precipitato, l'acqua, intendiamo l'acqua del rubinetto, quindi acqua contenente dei sali, che evidentemente interagiscono, se l'avessimo messo in acqua normale, in acqua distillata, si sarebbe sciolto e basta, senza formare nessun precipitato. L'acqua del rubinetto forma un precipitato e queste intanto sono due proprietà importanti, che differenziano il bicarbonato da ciò che è venuto fuori riscaldandolo. Come spiega il fatto che da un solito secco riscaldato esca acqua, esca qualcosa che forma condensa su una superficie metallica fredda? Lo spieghiamo che, diciamo, si sta liberando acqua, mentre lo riscaldiamo, mentre riscaldiamo il bicarbonato, si libera acqua, riscaldiamo, si libera vapore acqueo, che poi, quando si condensa, lo riconosciamo. Vapore acqueo. Quindi c'è una reazione chimica. perché non c'è acqua all'interno del bicarbonato. L'acqua è una sostanza nuova che non avevamo messo a reagire, ma che si forma in seguito alla reazione. Siccome dalla reazione, oltre all'acqua, si forma come minimo anche un'altra sostanza bianca, che non è il bicarbonato, si deve trattare di una decomposizione. Perché da una sostanza sola, il bicarbonato di sodio, si formano due o più sostanze. Una è l'acqua, una è il prodotto del riscaldamento. Poi vediamo se ce n'è anche qualcun'altra. E qui, chiaramente, non potevamo in casa fare più di tante analisi, per cui ci facciamo guidare dal questionario. La formula, abbiamo visto, che è HCO3, quindi la vado a copiare. NAHCO3, eccola qua, copio e incollo. Quindi questa è la formula della sostanza. E la domanda è, se io parto da un'unità formula, quindi sto partendo da un atomo di sodio, da un atomo di idrogeno, uno di carbonio e tre di ossigeno, combinati in queste proporzioni, uno, 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 tre, e di queste ne prendo un'unità singola, la domanda è, quante di queste servono per fare, per eliminare una molecola d'acqua, visto che nella domanda 7 abbiamo capito che vengono da questi atomi, vengono eliminate le molecole d'acqua. Allora, è chiaro che per l'ossigeno non c'è nessun problema, in quanto me ne basta una, visto che ci sono tre atomi di ossigeno. Mentre per l'idrogeno c'è il problema che ce n'è uno solo. Di conseguenza, io per ottenere una molecola d'acqua ho bisogno di due atomi di idrogeno. Siccome una unità mi dà un atomo di idrogeno, mi servono due unità, quindi due unità, scriviamo Na, lo incollo un'altra volta, e quindi queste sono due unità, due unità, unità mi daranno i due atomi di idrogeno. bene, allora, se io sottraggo una molecola d'acqua dalle unità di bicarbonato di sodio, stabilite nella domanda precedente, cioè due, devo sottrarre anche una molecola di aniria carbonica. Che significa? Qui mi sta dicendo che quando è venuta la reazione, io a casa non me ne posso rendere conto, non c'è niente per verificare che si formi aniria carbonica. Me lo sta dicendo questo quesito. Si libera anche aniria carbonica. Quindi io da queste due unità devo togliere la molecola d'acqua e la molecola di aniria carbonica. quindi vado qua e faccio. Sottraggo tutto ciò e quindi ottengo questo meno CO2 meno H2O e quello che ottengo faccio proprio un'operazione algebrica, quindi metto l'uguale per vedere ciò che rimane. Rimangono due atomi di sodio, quindi scrivo Na2, quindi io dalla formula poi dovrei riconoscere il composto che rimane. Di idrogeno non è rimasto nemmeno uno, dei due carboni ne è rimasto uno solo perché uno è andato via con l'aniria carbonica, quindi ho un solo carbonio. Di ossigeni ne avevo sei, tre più tre, ma due sono andati via con l'aniria carbonica, uno con l'acqua, quindi ne sono rimasti tre. Na2CO3. A questo punto, dopo aver usato tante volte l'Na2CO3 in laboratorio per fare reazioni e cose varie, io lo riconosco e quindi capisco che la sostanza solida che è rimasta dopo che ho riscaldato è carbonato di sodio e quindi mi chiede come si chiama questo composto carbonato di sodio. Ok, andiamo avanti e vediamo le prossime domande. Puoi scrivere l'equazione completa della decomposizione del bicarbonato di sodio? già c'era scritta qui, ah no, completa anche delle indicazioni degli stati di aggregazione solido e gasoso delle quattro sostanze coinvolte. Allora, quindi adesso è un momento importante perché io scrivo in chimichese quello che ho visto accadere mentre scaldavo, cioè quello che ho provocato più che visto accadere. Io ho scaldato il bicarbonato, ho visto che dopo riscaldato non si comportava più con il bicarbonato, però adesso con gli aiuti del questionario eccetera, io sono in grado di decifrare chimicamente che cosa è successo. Quindi ho preso due due molecole, due unità di bicarbonato per ogni due unità di bicarbonato di questa sostanza solida si sono formate metto la freccia per dire che questa volta sto parlando di una reazione chimica il triangoletto qui non ce la facciamo a farlo lo ignoriamo questa cosa il triangoletto per dire che stiamo riscaldando ce lo sappiamo che abbiamo riscaldato quindi a una temperatura superiore ai 130 gradi la reazione di decomposizione è abbastanza veloce, abbastanza rapida. Quindi con un 20 minuti in quarto d'ora eravamo sicuri di averlo trasformato interamente in carbonato di sodio. Quindi si forma il carbonato di sodio solido, eccolo, lo copiamo e incolliamo, si forma l'anidride carbonica che potremmo riconoscere con la cartina imbevuta di idrossido di bario e fenolfetaleina quando arriva l'anidride carbonica si trasforma in carbonato di bario precipita, non c'è più l'idrossido di bario e la fenolfetaleina si decolora e quindi noi capiamo che è arrivata l'anidride carbonica ma a casa non ci avevamo la fenolfetaleina non ci avevamo niente per fare questo. L'anidride carbonica se ne va come gas mentre l'acqua se ne va come vapore e si scrive lo stesso G e non V. Ecco, questa quindi è la nostra reazione completamente bilanciata e scritta con tutte le listate di aggregazione. Allora, alla pagina di wikipedia possiamo andare a vedere no, non posso perché in questo momento non si vedrebbe dal video comunque si parla di un inizio della decomposizione a una temperatura di fusione con decomposizione a 270 gradi ma noi non avevamo bisogno di arrivare a 270 gradi infatti non avete sicuramente visto il bicarbonato fondere è sufficiente, dice su wikipedia superare i 50 gradi quindi anche a 50 gradi ci sarà una trasformazione molto lenta chiaramente ma di uno lo tiene a 50 gradi e dopo una settimana si è trasformato completamente è diventato carbonato di sodio la colorazione del carbonato di sodio da impartire quindi qui potremmo mettere 50 gradi la colorazione del carbonato mettiamolo da T maggiore 50 gradi la colorazione del carbonato di sodio impartita al cavolo rosso o al vino indicano che il carbonato di sodio sia una base più forte del bicarbonato di sodio ecco qui la grande differenza tra carbonato e specie ione carbonato e la specie ione bicarbonato che cosa diventa l'ione carbonato quando cattura un protone da un acido e quindi sono queste le due domande se il carbonato è una specie basica deve catturare un protone da un acido allora scriviamo la reazione completa lo ione carbonato la reazione di scambio protonico quindi ci sono due meno deve reagire con una specie acida e quindi non sappiamo qual è potrebbe essere l'acido acetico o qualsiasi altro scriviamo A per indicare la base coniugata dell'acido qui dovremmo inserire una doppia freccia vediamo se mi ricordo no eccola qua ok mettiamo la doppia freccia e abbiamo che il protone si stacca dall'acido e si va a attaccare sull'ione carbonato formando indovinate un po' che cosa l'ione bicarbonato quindi con una sola carica negativa mentre la specie acida la molecola H in questo caso potrebbe essere anche stato un ione acido è rimasto solo con la A negativa quindi e questa quindi l'ione bicarbonato diventa l'ione carbonato diventa ione bicarbonato quindi il bicarbonato è l'acido coniugato del bicarbonato il bicarbonato è l'acido coniugato del carbonato sotto abbiamo anche la reazione inversa cosa diventa l'ione bicarbonato quando reagisce con una quando reagisce nello stesso modo no nello stesso modo significa che anche lui deve reagire con un acido quindi scriviamo l'ione bicarbonato stiamo parlando di singola specie quindi non ci interessa dire se sta in soluzione acquosa stiamo parlando di una sostanza quindi non metto gli stati di aggregazione in questo caso reagisce con un acido magari con lo stesso di prima mettiamo la doppia freccia deve reagire con questo e quindi anche in questo caso c'è il protone all'inizio si forma quindi l'acido carbonico una molecola di acido carbonico la quale però in soluzione acquosa è instabile e si per la maggior parte si distruggerà quindi qui rimane sempre a meno si decompone e diventa anidride carbonica e acqua quindi la H2CO3 che è l'acido coniugato del bicarbonato diventa praticamente in maniera quasi completa possiamo anche non mettere la doppia freccia diventa H2O che è successo? non serve H2O più anidride carbonica quindi si trasforma in due specie tutte e due molecolari ok quindi è una decomposizione perché anche qui da una molecola ne ottengo due e questo quindi è quanto per la numero 13 i sali di calcio e magnesio nell'acqua sono presenti principalmente come bicarbonati i bicarbonati di calcio e magnesio sono solubili scriviamo la formula dei due bicarbonati quindi il bicarbonato di calcio sarà costituito da ioni calcio con due più e quindi dovrò metterci due ioni bicarbonato per completare per bilanciare le cariche elettriche mentre nel caso del bicarbonato di magnesio dobbiamo solo cambiare il simbolo e mettere quello del magnesio perché anche il magnesio ha la stessa carica due più e quindi devo prendere due bicarbonati per ogni magnesio quale reazione avviene aggiungendo carbonato di solio al bicarbonato di calcio? ecco per esempio il bicarbonato di calcio potrebbe essere il componente il sale più abbondante presente nell'acqua del rubinetto e noi abbiamo visto che mettendo ioni carbonato sotto forma della sostanza solubile carbonato di sodio o soda solvei si formava quel precipitato che abbiamo visto sopra quindi ce lo andiamo a rivedere si formava questo intorbitamento questo intorbitamento è dovuto a una reazione di doppio scambio che è quella che ci viene richiesto di scrivere nella domanda numero 14 e ci scrivi l'equazione allora l'equazione sarà tra il bicarbonato di calcio che lo vado a copiare perché si trova nell'acqua anche qui possiamo corredare di simboli degli stati di aggregazione lo facciamo reagire quindi con il carbonato di sodio e anche questo facciamo il copio e incolla carbonato di sodio eccolo qua che non dobbiamo più chiamarlo bicarbonato riscaldato ma lo chiamiamo carbonato di sodio e qui si ha una reazione che interessa in realtà non le specie calcio si interessa anche la specie non interessa solo gli ioni carbonato praticamente in questo scambio il bicarbonato di calcio diventa carbonato di calcio che è insolubile quindi si deve formare Ca con 2 più Co3 con 2 meno quindi Ca Co3 solido e questo quindi sarebbe il precipitato quello che vediamo se c'è il magnesio precipita anche il magnesio se è abbastanza concentrato più che cosa succederà che invece il carbonato di sodio diventerà bicarbonato di sodio quindi diventerà bicarbonato di sodio quello che abbiamo utilizzato all'inizio per questi esperimenti e questo però è solubile quindi ci scriviamo che rimane sciolto in acqua questa reazione non è bilanciato in realtà non c'è scritto di scrivere l'equazione bilanciata questa equazione è già sufficientemente corretta perché noi abbiamo osservato qualcosa di qualitativo abbiamo visto che si è formato il precipitato ecco qua il precipitato quindi non ci interessa bilanciarla comunque se la volessimo bilanciare dovremmo osservare che qui ci sono due sodi e due bicarbonati quindi è chiaro che si formeranno due unità di bicarbonato di sodio come spieghi l'esito dell'esperimento 3.2 se ho scritto l'equazione significa che già l'ho fatto il solido in sospensione è costituito costituito da bicarbonati di calcio e magnesio carbonati di calcio e magnesio insolubili in acqua scarsamente solubili in acqua in acqua formati dalla reazione di doppio scambio di cui alla risposta 14 ok andiamo a vedere se ci sono altre domande se ci sono altre tre quindi dobbiamo scrivere l'equazione della reazione dell'acido acetico ecco che cosa è successo che questa sospensione bianca poi dopo l'abbiamo sciolta con l'acido acetico contenuto nell'aceto in concentrazione rilevante perché è una mole al litro utilizziamo i soliti simboli e scriviamo allora facciamo un po' di copia e incolla noi abbiamo questo precipitato prendiamo il calcio perché nelle nostre acque di magnesio ce n'è poco invece di calcio ce n'è di più quindi facciamo così più l'acido acetico contenuto nell'aceto avremmo potuto usare anche succo di limone e questo è sciolto nell'acqua potevo scrivere anche uno molare si forma si forma quindi di nuovo il bicarbonato di calcio il quale poi diventa acido carbonico insomma alla fine diventano CO2 ed acqua e questa è la CO2 responsabile delle bollicine che qualcuno ha notato chiaramente chi c'aveva l'acqua più dura cioè più ricca di sali di calcio e magnesio avrà ottenuto maggiore precipitato e con l'aggiunta dell'aceto avrà visto anche più effervescenza più si formerà l'acetato di calcio che è un sale solubile in acqua qual è la formula di questo acetato di calcio? prima mettiamo il calcio che è positivo con due cariche doppiamente positivo e mentre l'acetato se noi gli togliamo un H+, sarà uno ione CH3CO- quindi se questo ha una carica negativa ne dobbiamo prendere due per compensare le due cariche positive del calcio e questo sale rimane sciolto in acqua per vederlo dovremmo evaporare l'acqua ma non ce ne sarà tantissimo quindi come spieghi il risultato dalla reazione di doppio scambio si forma si formano acetato di calcio solubile in acqua senza che lo scrivo e anche acido carbonico che poi si decompone in anilide carbonica e acqua quindi alla fine tutto rimane limpido e sparisce la sospensione solida perché con il bicarbonato aggiunto all'acqua e il rubinetto non si forma nessun precipitato? semplice perché il bicarbonato di sodio più il bicarbonato di calcio o di magnesio che c'è nell'acqua per esempio lo copiamo da qui quello di calcio io sto unendo una sostanza solubile in acqua e la aggiungo a un altro bicarbonato e quindi se io faccio la reazione di doppio scambio non posso aspettarmi che venga fuori qualcosa di nuovo che sto unendo due bicarbonati quindi non posso avere nessun tipo di reazione di doppio scambio e niente di insolubile per avere qualcosa di insolubile devo mettere il carbonato e con questo abbiamo completato in quasi 30 minuti grazie a tutti